Siamo qui con Andrea Garibaldi, uno degli ultimi volti arrivati a casa al bordino. La dirigenza lo presentò come il regalo di Natale. Hai esordito con una sconfitta, ma nelle successive partite il tuo contributo si è visto, sia in campo che in termini numerici, perché hai portato a casa quattro clean sheet in sei giornate, e da lì siete ripartiti. Perdere con il flaccoporto poteva essere un segno di resa, invece voi da lì siete ripartiti, avete inanellato una serie incredibile di risultati utili, quattro vittorie e un pareggio. Il casa a bordino a cosa ambisce da qui alla fine del campionato? Ambisce ad arrivare al più alto possibile in classifica, cercando di farlo attraverso delle ottime prestazioni. Il distacco della prima non è così incolmabile. Noi ci proveremo, probabilmente la squadra all'inizio non era stata fatta per arrivare i primi in classifica, adesso con i vari ritocchi invernali siamo un'ottima squadra. Diciamo che ce la giochiamo con tutti, cercando di arrivare fino alla fine. Penso che abbiamo le potenzialità per farlo. Quindi non vi accontenterete solo dei play-off? Visto che comunque i punti di distacco sono cinque, c'è ancora la possibilità di rosicchiarne altri e di portare a casa l'eccellenza direttamente senza passare per gli spareggi? È molto difficile, perché la Flacco è una squadra molto quadrata. Come dicevi tu, l'abbiamo incontrata nella prima giornata di gennaio e abbiamo perso, quindi stanno vincendo tantissime partite e quindi è difficile riprenderli. Loro cinque punti avanti credo che siano ormai quasi favoriti fino alla fine. Non so quanti ancora scontri diretti abbiano, però uno l'hanno vinta già domenica in casa contro l'Ortona. Noi cercheremo di fare più punti possibili. Poi alla fine dell'anno vediamo dove saremo, se saremo primi, secondi, terzi. Comunque l'obiettivo adesso è centrare i play-off e abbiamo la possibilità di farlo. Diciamo che negli ultimi 500 minuti hai subito un solo gol, però quel gol vi ha tolto due punti che al momento risultano fondamentali nella corsa al primo posto. Quella partita col Celano a fine stagione potrebbe pesare nell'economia della stagione? Sì, in termini numerici probabilmente sì. Devo dire però che il Celano quella giornata non rubò niente a casa al Bordino, anzi loro fecero un grandissimo secondo tempo, meritando ampiamente il pareggio. Quindi per noi non c'è nessun rimpianto, abbiamo fatto la nostra partita. un peccato non aver sfruttato l'occasione di andare sul 2-0 con un'occasione limpida davanti alla porta. Forse è più quello e il rimpianto che non poi l'andamento della partita, perché ripeto, loro non hanno rubato nulla. Quindi a fine partita sono stato io il primo a fare i complimenti sia al mister che ai giocatori, insomma, perché abbiamo incontrato veramente un'ottima squadra. Sei arrivato a dicembre in un gruppo con un mix di giovani esperti. Dopo quasi due mesi com'è il rapporto con dirigenti e compagni? Il rapporto è ottimo con i compagni, molti dei quali conoscevo già da tanto, con qualcuno avevo già avuto modo di condividere lo spogliatoio. Sono trovato subito bene, i dirigenti sono sempre disponibili, non ho avuto nessun problema di inserimento. Merito a loro che mi hanno messo a disposizione subito la loro cortesia, gentilezza, insomma, dentro lo spogliatoio. Adesso c'è un clima molto tranquillo. So che ci sono stati molti cambiamenti nei mesi scorsi. Io sono stato veramente l'ultimo ad arrivare, quindi non ho seguito tutte queste fasi. Però adesso devo dire che il mix giovani esperti è molto buono. Tu sei un lancianese di nascita, ma per amore e lavoro sei oramai un vastese d'adozione. Forse non tutti ricordano che sei stato anche uno dei primi a sposare il progetto della vastese quando è ripartita. Oggi è in Serie D, ma con te si ripartita la promozione. Cosa ricordi di quei mesi? Ricordo che c'era tantissima passione. I tifosi erano vogliosi di vincere subito il campionato, anzi di neanche vincerlo. Per loro dovevamo stracciarlo il campionato. Però non è così semplice. Infatti quell'anno ha dimostrato che ci sono stati vari avvicendamenti in panchina. Tantissimi giocatori che sono passati, così come lo sono stato io. Poi sono stato mandato via a dicembre. Il ricordo è sicuramente positivo per quanto riguarda i compagni di squadra e l'affetto che avevo da parte dei tifosi. Per quanto riguarda poi le scelte societarie, bisognerebbe aprire una parentesi molto più ampia e lasciamo stare. Corri verso i 40 anni. Sei nato lo stesso anno di un portiere che ha scritto la storia come Buffon. In questi giorni si parla tanto di un suo ritiro o andare avanti. Se ad alti livelli ci sono altri interessi che spingono un portiere di quel calibro a proseguire ancora la stagione, nel dilettantismo cosa spinge un portiere come te ad andare avanti anche quando l'età inizia a pesare? La passione. Solo ed esclusivamente la passione per il calcio, per questo sport. Non c'è un'altra molla che ti possa convincere. Sicuramente non è l'aspetto economico o giocare davanti al grande pubblico. È solo la passione. È una cosa che ho ancora dentro. Voglio sicuramente finire quest'anno nel migliore dei modi. Non so adesso l'anno prossimo. Non ho fatto progetti così lunga scadenza. È una gioia andare tutti i giorni al campo o comunque almeno tre o quattro volte alla settimana per fare allenamento cercando sempre di migliorare. Io credo che il segreto per durare tanti anni sia proprio quello. Avere degli obiettivi nel migliorarsi. Io ogni giorno cerco di carpire un piccolo segreto dai grandi portieri con i video. Vado a vedere su YouTube un po' gli allenamenti. e se non c'è più questa passione credo che sia giusto lasciare. Io per fortuna o per disgrazia ho ancora questa passione quindi continuerò ancora un po'. Grazie. Grazie.